E vedo quest'ombra gigante e mi sono detto proprio... L'hai capito subito che era uno squalo? Ebbè, prima era chiaro sotto, dopo era tutto nero. Un pochissimo, in una frazione di secondo, da quel momento in cui l'ho visto mi sono sentito tirare e ha iniziato a tirarmi verso largo, perché gli squali poi mi sono informato tanto. Quindi non ti portava giù? No, no, ma lì c'era l'acqua che mi arrivava qua. Ah, non era immerso. Oh mio Dio, ma che sfiga del cazzo! Ciao amici e benvenuti ad una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Oggi vi racconteremo una storia che sembra un film, ma purtroppo non lo è. Siamo qui con Matteo, un grande applauso. Che ci introdurrà in un mondo oceanico. Intanto guardiamo l'escursione termica di questo studio. Ci sono io con Piumino e Marra in maglietta. Abbiamo tutte e tre, abbiamo maglietta a fe, non faccio bene. Nulla ha senso. Esatto. Fa caldo o fa freddo in questo studio? Non capisco. Ok. Vedi, è un po' io freddo oggi. Allora Matteo, noi ovviamente abbiamo seguito la storia, però per chi non ti conoscesse, raccontaci un po' come tutto è iniziato. Prima brevemente, insomma, chi sei, cosa fai nella vita e poi chiaramente entriamo più nello specifico, nella vicenda che ti riguarda. Io ragazzi sono Matteo Mariotti. Mi avete conosciuto purtroppo solo ora. Finita la scuola, avevo intrapreso questo viaggio in Australia per iniziare la mia vita. Era un viaggio in cui sarei dovuto andare a lavorare, visitare e poi dopo aver capito che mestiere mi sarebbe piaciuto fare avrei iniziato a studiare. Quanti anni hai? 20 anni. Quindi 2003. Scusami, fa sempre male. Sono partito subito dopo la scuola, che ne avevo ancora 19 e sono riuscito a girare fortunatamente tutta la East Coast, lavorando, posto stupendo, mi è piaciuto veramente tanto. Che lavoro facevi? Ho cambiato un sacco di lavori, ho fatto da chef, ho fatto l'alberghiero, era praticamente la prima cosa di cui mi sapevo intendere. Poi sono stato a Fiere di Rodei, eventi Monster Truck, poi ho fatto vabbè Pizzaiolo, è capitato. Gli eventi Monster Truck spaccano comunque? Sì, tutto in grandi festival, avevamo degli stand e poi ultimamente mi occupavo di farmwork, guidavo dei trattori, insomma macchinari. Perché infatti dicevo, solitamente un italiano quando vai in Australia vai a lavorare la campagna, quando sei... È obbligatorio? C'è il periodo obbligatorio, vero? Sì, devi fare questi 88 giorni da almeno 8 ore al giorno. Sì, sì, ecco, quindi abbiamo dato un contesto a questa storia. Cioè Matteo in Australia, cosa succede un giorno in Australia? Un giorno, purtroppo il giorno in cui ho scoperto della morte del nonno, io sono svegliato questa mattina con un mio amico di montagna che mi ha scritto condoglianze matte e io ho subito panico perché ho detto solo condoglianze, non sapevo nemmeno di cosa si trattasse e di chi si trattasse. Avevo immaginato fosse il nonno perché... Non stava bene. No, infatti ero tornato in Italia ad agosto anche perché mio papà mi ha detto vieni a casa che il nonno non sta bene. Lo saluti. Sì. Beh, insomma, sì, diciamo che erano diversi anni che si dava per spacciato, possiamo dire, però fortunatamente ho riuscito a campare di più, se si può dire. Chiaro. E nulla, purtroppo quella mattina mi sono svegliato con questa terribile notizia e poi dopo sono riuscito a contattare mio papà, sono riuscito a sentirlo e ma sì, mi ha spiegato il nonno, però mi ha detto anche che era andato via felice, è riuscito a chiamare tutta la sua famiglia. Lui si è svegliato quella mattina che sapeva che se ne sarebbe andato quel giorno, proprio se lo sentiva e non voleva assolutamente andare in ospedale perché ormai erano diversi anni che faceva avanti e indietro e in poche parole è riuscito a chiamare i suoi figli e è morto lì in casa, diciamo. E allora cosa è successo? Io ho scosso, dico a Tommaso ciò che è successo, mi aveva visto molto giù e decido di… Chi è Tommaso? Tommaso è un amico che ho conosciuto a Cairns, Nord Australia. Un tuo amico. E allora nulla, stavamo vivaggiando insieme, avevo appena finito questi lavori obbligatori da fare e io ho detto guarda oggi, abbiamo in mente qualche tappa, no? Allora io ho detto guarda oggi voglio staccare un po', voglio andare a farmi un bagno perché non mi portava sempre al mare, allora ho detto evitiamo di fare dei gran giri, andiamo là, ci rilassiamo e nulla, parti per andare in questo posto sicuro, cerchiamo su internet proprio un posto balneabile, sapendo che ero in Australia già da un anno, sapevo che non tutti i posti erano balneabili e poi erano mesi in realtà che non facevo il bagno al nord perché non si può fare. Allora ci dirigiamo più verso sud, verso il centro e troviamo questa spiaggia da 1770, che è la spiaggia in cui sarebbero sbarcati in Australia, comunque spiaggia consigliata a famiglie e bambini su internet. Quindi non una situazione di rischio, di pericolo? No, assolutamente no, infatti c'erano proprio ragazze, famiglie, una spiaggia. Una spiaggia con la gente che fa il bagno. Prima di arrivare in questa spiaggia mi fermo a comprare delle pinne che andando verso sud sapevo che mi sarebbero servite perché io adoro fare immersioni e andare insomma in acqua e non le avevo ancora prese, l'ho presa puntualmente quel giorno lì e nulla, vai in questa spiaggettina fai questi 800 metri in discesa per raggiungerla e mi sono ritrovato in questa spiaggia con Tommaso che insomma doveva andare a fare le sue cose e ci siamo praticamente divisi un attimo. In che senso non andare a fare le sue cose? Si è andata a nascondere dietro una pianta perché doveva... Cagare? Sì. Eh, doveva cagare raga, vabbè. Scusa Tommy ma... Vabbè, posso dirti Tommy, anche io faccio la cacca in spiaggia, mi è capitato più volte. No, giustissimo. E allora nulla, ci salutiamo e l'ultima cosa che mi dice Tommy è stai attento perché io ero convinto che la mia assicurazione scadesse il 4. Dopo tutto ciò ho scoperto che scadeva il 14. Vabbè, quindi vabbè, però uno quando va a fare il bagno non è che pensa che c'è l'assicurazione scaduta. No, assolutamente no. No, scusami, c'è uno dice faccio il bagno. Certo, ma essendo che ne avevamo... Cazzo dovrà mai succedere mentre faccio il bagno. Essendo che ne avevamo parlato ci avevamo detto insomma non facciamo cazzate, cerchiamo di... Era una situazione... No, normalissima. Super safe. Assolutamente sì, poi c'erano dei ragazzi in acqua, insomma non appariva per niente pericoloso. Sei andato. Fatto sta che nulla, ci salutiamo, lui mi fa un ultimo video mentre entro in acqua e dopo veramente poco sono riuscito a fare forse 10-15 metri e sapevo dei sassi della sabbia dentro la pinna a destra, allora mi fermo per metterla a posto, mi metto esattamente in questa posizione e inizio a sistemarmi la pinna. E ad un certo punto sento questa fitta, proprio forte fitta, ho detto un pesce pietra. All'inizio pensavo qualcosa... Gurriccio? Ma sì, ho sentito una fitta improvvisa anche se il piede era sempre fermo lì. Allora mi giro e vedo questa ombra gigante e mi sono detto proprio... L'hai capito subito che era uno squalo? Eh beh, prima era chiaro sotto, dopo era tutto nero. Porca p***a. No, e oltretutto poi non è che dici, vedi un pesciolino, ho proprio visto tutto nero. Era grosso, grosso. Tanto grande. Porca troia, raga. E allora nulla, in un pochissimo, in una frazione di secondo, da quel momento in cui l'ho visto mi sono sentito tirare e ha iniziato a tirarmi verso largo, perché i squali poi mi sono informato tanto. Quindi non ti portava giù? No, no, ma lì c'era l'acqua che mi arrivava qua. Ah, non era immerso? No, no, no. Oddio, ma che sfiga del cazzo? Cioè, quindi ti ha preso mentre tu toccavi l'acqua? No, io non avevo ancora neanche la testa bagnata. Era mezzo busto, no? Sì, 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 no. Ah, io pensavo che eri un po' a largo. No, vicini... Subito. Madonna, e quindi ti ha portato a largo? Sì, a largo, penso una sessantina di metri, massimo. E micchia, sono tanti i sessantamenti? Vabbè, non è che sono stato io a contare i metri, però... Però tanto ti ha trascinato per un bel po'. Sì, e io in quel momento avevo la maschera in fronte, non ce l'avevo ancora sugli occhi, e dal momento in cui mi sono sentito tirare, la prima cosa che ho fatto è stata posizionare la maschera sugli occhi, perché all'inizio panico. Poi devi diventare lucido, perché volevi vederlo in acqua. Eh, certo, perché mi sono detto, ok, è finita, subito, come prima cosa. Non ti è venuto da dargli dei pugni? Vuoi picchiare nello scuolo? Non lo so, raga, sto cercando di ragionare. Non ti viene la voglia di dare... Cioè, no? Non riesci? Non lo so. Penso che manco li senti. No, 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 no. E poi in realtà non vedevo neanche dove fosse la testa, cioè non riuscivo a... Non capivi dove... No, 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 assolutamente no. E poi mentre mi tirava, ieri ho coreccato così. E non riuscivo ad alzarmi. E andava veloce? Sì. Orca mamma. Decisamente, io faccio wakeboard e quindi diciamo che essere trascinato in acqua sono abituato e lui andava un po' più forte. Poi comunque siamo riusciti a ricostruire questa dinamica, no? Con dei miei amici, comunque biologi marini che se ne intendono. In poche parole nulla, gli squali è un loro metodo di caccia, di solito non avviene verso riva, però capita a volte che si spostino e cosa succede? Che io sono stato sfortunato in partenza, dopo ho avuto tutti i tipi di fortuna del mondo, in seguito adesso vi spiego. E si vede che io ho incontrato o la foco o il pesciolino che stava inseguendo in quel preciso istante e ha scambiato forse la mia pinna o la mia gamba. Per il pesciolino. Esatto. Ah, non voleva attaccare te, dici. Gli squali non attaccano l'uomo, di norma. Porca troia. Cioè è capitato, capita perché... È beccato proprio uno squalo rincoglionito, cioè che ti ha scambiato per un'altra roba. Sì, ci sono comportamenti che possono attirarli, come vuol dire splashare, vuol dire quando fai il rumore in acqua e questa è la cosa che li attira. Tu e riarriva. Un uomo fermo non si è quasi mai visto che uno squalo prendesse una persona ferma. Cioè minchia che stia. Infatti mi ricordo che ci fu una polemica tanti anni fa, poi ogni tanto torna ovviamente alla ribalta, un'accusa nei confronti di Spielberg per aver dipinto lo squalo come un mostro temibile, quando in realtà ovviamente è un film horror, come tutti i registi, non ha responsabilità, oppure anche Nemo, che poi diciamo portò il film della Disney, portò alla caccia di questi pesci qui, quindi conseguenze impreviste, però effettivamente anche lo squalo, come dicevi tu, non ha un istinto predatorio nei confronti dell'uomo, soprattutto attaccato alla riva e inoffensivo in quel momento che stai a fai i calzi tuoi, però ecco forse come ti hanno spiegato... Sfiga. Esiste una cosa chiamata sfiga e infatti credo che gli attacchi degli squali annualmente non siano tantissimi. No, 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 in realtà sono pochissimi. Sono pochissimi, pochissimi, sempre per ragioni particolari. Poi c'è il caso che ti va di sfiga e ti va di sfiga. Vabbè, allora sono pochissimi registrati, poi per esempio in Sudafrica dove ce ne sono... Ah beh, dici, non li registrano, certo. Esattamente. Quindi essenzialmente avverti questo dolore, abbassi la mascherina per vedere meglio... Sì, e faccio addirittura questo gesto che sarebbe mandare fuori l'acqua. Nel momento volevo essere proprio più sul pezzo possibile della serie Devo vedersi perché immaginavo che mi sarei ritrovato sott'acqua e puntualmente riesco a prendere il respiro e letteralmente forse un paio di secondi dopo mi ritrovo sott'acqua, non tanto, penso due, massimo tre metri perché c'era tanta luce, più vai giù, meno luce c'è. Però è tanto, due o tre metri sott'acqua. Ma no, in realtà no, ci metti un attimo a venire fuori, solo che sono tanti se c'hai uno squalato attaccato a una gamba. Sì, in effetti. E non è stata per niente una bella scena, in quel momento dentro la mia testa sentivo solo, bene, finita. Tu eri certo? No, no, cento per cento. Non avrei scommesso un centesimo neanche per iniziare un milione. Posso farti una domanda? Che cosa pensi in quel momento? Finita. No, in quel momento tu pensi a tutte le persone che non rivedremo più. Eri sereno o eri preso male? Allora, giuro, in quel momento ero sereno, proprio nel momento ero serenissimo. L'avevi accettato? Sì, sì, no, io avevo subito accettato il fatto che sarei morto, però una parte di me era probabilmente incredula in ciò che stava succedendo. Non ci volevo credere da una parte, non ci credevo. Il cazzo finisce veramente così? E oltretutto proprio non realizzavo in realtà, realizzavo da una parte al cento per cento e dall'altra a zero. Quindi una parte di me era convinta di morire, l'altra mi diceva tranquillo, non succede niente. Visto che sei qui sappiamo come finisce la storia, nel senso che... Sì, per fortuna. E' uno spoiler, ragazzi. Come avviene il miracolo, vogliamo dire? Sì, sì, vabbè, miracolo. Vabbè, in senso lato, cioè non nel senso biblico. Comincio a trascinarti. Mi ritrovo sott'acqua e prima cosa che penso, poi dopo il fatto che sono morto, è se mi salvo, mi devo salvare in buona parte. Non mi posso salvare a metà. Come si torna, arriva senza gambe. Certo. Ho pensato subito. E allora ho pensato subito alle gambe, perché mi stava mordendo una gamba e ho detto, se mi arriva qua è finita, come faccio? Poi so che ci sono le arterie qua. Certo, le arterie lì. Allora, prima che mi raggiungesse il ginocchio mi ha dato, adesso non si capisce, però è partito da qua, poi mi ha dato una morsiccata qua, poi un'altra qua e quando sono arrivato in questa posizione, braccia stese, diciamo che l'ho... L'hai parato? Non posso dire l'ho fermato, perché se voleva finire di mangiarmi mi mangiava. Hai opposto resistenza. Sì, sono riuscito a metterci anche un piede sul muso, se si può dire. Quindi con l'altro piede hai bloccato un attimo il muso, quindi l'hai rallentato un po'. Hai rallentato, cioè hai evitato che ti mordesse il quadricipite. Sì, che venisse più su. In quel momento ho detto anche, ho pensato, bene, adesso mi sono messo in una posizione ancora peggiore, perché è abbastanza grande per mangiarmi tutto in questa posizione, perché ero a pallina, se si può dire, e io l'ho visto veramente grande. Io non ho visto la lunghezza, non ho visto... ho visto solo scuro e una bocca che sarà stata una bocca così. Così? Sì, sì. È veramente grande. E infatti in quel momento mi sono detto, bene, adesso ho la va, ho la spacca. Per un attimo ho pensato addirittura di entrarci in bocca e cercare di ucciderlo da dentro. Cioè, lì le pensi tu? Alla fine ho fatto la cosa migliore. Hai fatto bene a non entrargli in bocca? No, 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 ne sono sicuro. Quella è colpa di Pinocchio. Quello è Pinocchio. Quelli sono i film. La rilettura di un lodi da Disney. Forse con un coltello potevi, se entravi con un coltello lo squarciavi da dentro. Anche un po' a Bear Grylls quello. Sì, sì. Non lo so. I danni di Pinocchio. Vabbè, fatto sta che riesco poi a un certo punto, quando lui mi stacca la gamba, perché ci mette veramente una frazione di secondo a maciullarmela, perché quello che ho già detto sembra una morsa, sapete quella che si stringe, con una sega. La tagliola. Sì, più o meno. E nulla, è veramente pochissimo, me l'ha staccata e in quel momento allora ho pensato mi spingo, non sono più attaccato da nulla, mi spingo. E mentre mi spingevo, cosa è successo? Lui ha aperto la bocca e con l'altra gamba, con la destra, sono andato a infilzarmi coi denti di sotto. Ah, arcatraia. Non ci vede qua, questi sono gli altri segni. Faccio così. Aspetta, faccio così. No, vabbè, non fa... No, 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 no. Non ti sforzo. Quindi ti sei infilzato nei denti, from ti sei tagliato il polpaccio. Sì, però sono riuscito anche a sfilare l'altra gamba, che mi è rimanato attaccata per un pezzettino di pelle così. Ah, quindi sei tornato a riva con la tua gamba... Sì, staccata. Ma attaccata? No, era attaccata per un pezzettino di pelle così. Però te la sei portata a riva? Sì, adesso ti piego. E nulla, sì, riesco a sfilarmi... C'è la mia assistente che sta per svenire, credo. E gli squali so che hanno questi recettori sulla punta del muso. Del sangue. No? No, 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 non c'entra nulla con quello. Però c'hanno questi recettori che sono ultrasensibili. Infatti, non so se vedete dei video su Instagram o su YouTube, se vi interessa. Comunque per direzionare gli squali, quando ti vengono incontro, ci posi una mano sulla punta del naso, se si può dire, sul muso. E loro percepiscono un ostacolo, no? Quindi si spostano. E dal momento in cui io ci ho tirato, diciamo, un calcio, uno spintone con tutta la forza che avevo... Lui ha percepito l'ostacolo. ...porarsi e oltretutto, poi ho visto che è rimasta in bocca solo la pinna di plastica. Ah, quindi lui si è mangiato la pinna. Plastica dura che probabilmente gli si è rotta in bocca e quindi dal momento in cui si sente magari un forte colpo e la plastica... Si dice cosa sto mangiando, basta, molla il colpo. No, poi oltretutto magari ha anche capito, questo è un essere umano, a me fanno schifo gli esseri umani. Chiaro, certo. Perché gli squali non mangiano di norma l'essere umano. Ma porca puttana che... Diciamo la verità, quelli che muoiono per colpa degli squali è per incidenti in cui gli squali sbagliano preda, come nel mio caso, e purtroppo se ti morde uno squalo è il tuo, il morso, quindi tu muori di conseguenza. Poi capitano anche le volte in cui ti mangia e lì è capitato. Si, può esserci il raro... Certo, è come dire un cane che morde un uomo. Sono certo che sia così perché a me è capitato due volte, una volta alle Seychelles di fare proprio immersione con le bombole e avere degli squali di fianco e mi ricordo che il tipo mi diceva, guarda tu fai le bolle, se fai le bolle in teoria hanno paura delle bolle, magari dico una cazzata così. E invece una volta in Polinesia senza bombole vai proprio a largo, ma questo lo fanno fare a tutti i turisti, per far capire che quello che ha fatto lui è meno rischioso di quello che ho fatto io, cioè lui ha avuto un comportamento super diligente, invece in Polinesia ti portano a largo a nuotare accanto agli squali, che però sono una certa tipologia di squalo, mi spiegavano che se arriva lo squalo tigre invece c'è il tipo sempre che guarda e appena vedo uno squalo tigre fa raga via 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 così. Quelli sono gli squali nutrice che non mordono, praticamente succhiano. Succhi, succhiano, ti fanno un... Sì, esatto. E nulla, lo squalo tigre non è così simpatico, però si fanno anche un sacco di immersioni con lo squalo tigre. Io ho conosciuto persone e proprio di persona prima di questo accaduto che mi faceva vedere video con lo squalo tigre e Tommaso per esempio se ne intende, le ha fatte anche lui, diversi miei amici comunque l'hanno fatto ed era una cosa che in realtà appassionava anche me perché personalmente mi piacciono tanto gli squali, poi ora non so come mai ma dopo questa faccenda... È passata la passione? No, anzi mi è aumentata. Ah, cazzo, pensavo... No, ho iniziato a studiare i propri comportamenti e tutto per ricreare la dinamica al meglio, poi mi piace un sacco Biologia Marina, mi stava piacendo tanto e adesso a livello di squali proprio mi sto informando al massimo, mi piacciono. Cioè non so se è brutto da dire, però è un legame che si è creato in qualche modo. Sì, no, assolutamente, e poi non ce l'ho assolutamente con loro, cioè io non... Infatti per quelli che magari dicono, eh ma tu l'hai chiamato mostro, per mostro intendo gigante. E questa è una cosa perché... A gargantuisco dai. Scusate perché c'è qualcuno che fa la polemica sul fatto che tu sia squalofobico, cioè che polemica è, ma scusa lo squalo mi mangia la gamba, sarò pure legittimato a dire che mi sta sul cazzo lo squalo e a chiamarlo squalo di vero. Marco l'ha detto. Lo chiami mostro, ma cosa ha fatto? Sei tu andato a rompere i coglioni, diciamo, in casa sua? Io l'ho chiamato mostro perché era un mostro, era gigante. Ma in termini di dimensione. Ma che palle, raga, ma non è che si può discutere su tutto? Voi per esempio quando vedete uno gigantesco, un vostro amico, come lo chiamate? È un mostro. Ma zio, non ti devi giustificare. No, ma infatti lo sto giustificando. Ma scusate, ho mangiato la gamba e lo squalo, ti devi pure giustificare per una roba del genere, non esiste. No, in questo caso non sto giustificando me, ma sto dicendo agli squali di non prendersi a perché non ce l'ho con loro, in poche parole. Speriamo che guardino un muschio selvaggio. Sì, speriamo. Seguono, seguono, devo dire. Spolliciano bene, con le pinne. Alcuni sì. Riesco a liberarmi da questo squalo, arrivo in superficie, ci metto veramente poco perché poi avevo la muta che mi teneva a galla, questo mi ha aiutato tanto, grazie a Federico che mi hai regalato la muta. Quindi lui ti mordicchia, rimani con quel pezzetto, quel lembo di pelle attaccato, cominci a ritornare in superficie velocemente con la muta, lui si stoppa perché mangia la tua pinna, no? In realtà per tornare a riva ci ho messo veramente poco, non me ne sono neanche accorto, un paio di bracciate ero già su, cioè non arriva in superficie. Scusami, in superficie. Chiaro, chiaro. Quindi quello non è stato il problema, quindi non ero giù, lì non era tanto difficile. Mi ritrovo con la testa fuori dall'acqua e lì veramente crisi, crisi perché dal momento in cui ho guardato fuori dall'acqua, ho guardato verso riva, non vedevo la spiaggia, non vedevo gli scogli perché c'erano le onde che coprivano tutto, io vedevo solo la montagna e tante onde. Quindi non riuscivo né a capire quanto fossi lontano, né cosa stesse facendo quello squalo. Io ero veramente in un mare di sangue, non è una metafora, esiste veramente un mare di sangue, l'ho purtroppo visto, l'ha visto addirittura meglio Tommaso perché mi ha visto arrivare con l'ascia di sangue. Pessimo, secondo me, qualcosa di pessimo da vedere. E lì sono andato veramente in crisi, ho dovuto nuotare tanto, più di 5 minuti per tornare a riva e in tutti quei 5 minuti ero convinto ogni secondo che lui tornasse, quindi io già percepivo il morso nella pancia, mi immaginavo la mia fine. Tu essenzialmente arrivi con la parte superiore del corpo in superficie con il terrore che lo squalo possa tornare da un momento all'altro, da lì piano piano comincia ad avvicinarti a riva. Riesco ad arrivare verso riva e a un certo punto ero veramente stanco perché poi sentivo proprio il mio corpo che svaniva. Stai perdendo poi una maniera di sangue. Sì, no, un sacco e ho chiesto a Tommaso vienimi a prendere, Tommy mi ha guardato con aria disperata, non sono stato lì a guardarlo, però mi ha detto Matteo io non posso venire in acqua e apprezzo, apprezzo perché lui da persona che ne sa, sa che entrando in acqua avrebbe fatto ulteriore rumore e avrebbe ulteriormente aumentato, no, no, lui non solo è molto intelligente riguardo ciò, però proprio usava la testa, no? Ma tu l'hai urlato? Sì, l'ho urlato. Cioè hai urlato Tommaso aiutami? Sì, però lui allo stesso tempo mi ha detto ce la fai e io non so se da solo... Scusami da ridere, scusa, perché magari tu sei sicuro che è esperto Tommaso perché magari si cagava sotto, giustamente? No, no, se si è cagato sotto ne sono sicuro, però lui è un maestro di sub, lo sa bene. Ok, ok. Quindi lui sapeva che se fosse entrato in acqua avrebbe magari richiamato lo squale. No, no, ma c'è la certezza, più rumore fai in mezzo a del sangue, più lo attiri ed essendo che vanno in frenesia gli squali quando sentono sangue, sentono cibo... Capirà, tu c'hai sangue, poi pure l'altro magari nel panico, no? Sì, no, bene. Tommaso entra nel panico, succede il patatracca per tutti e due. Fortunatamente al mio fianco avevo penso la miglior persona che potessi avere perché lui è anche infermiere, quindi su certe cose non va in panico, cioè lui situazioni brutte le ha già viste e quindi io mi immagino con una persona che si impressiona è morto. Quindi lui ti fa, ce la fai? Lui mi fa, ce la fai, poco dopo ce l'ho fatta e infatti già lì, bene, poi sono comunque arrivato a riva e ho detto bene, adesso muoio lo stesso perché tanto sento sangue. E poi ti cade l'adrenalina? Sì, no, no, arriva a panico, avrete visto il video, quindi... No, io non l'ho visto, non ho voluto vederlo, ti posso dire. E comunque vabbè, lo ascolterai per capire meglio, non ci stavo dentro, però allo stesso tempo prima cosa che io chiesto è stata Laccio, perché per quanto io fossi fuori, ho mantenuto la calma durante il tutto, ho pensato a tutte le strategie, e lui subito da infermiere pronto bandana, ho avuto la fortuna di avere questa ragazza Tina, saluto Tina, grazie Tina, e lei non lo vedrà mai perché... È australiana? Sì, non è dico, non mi ricordo dove sei. Vabbè, hai preso l'Instagram, cazzo. Sì, però l'ho conosciuta nel giorno della mia morte, diciamo. Carina Tina? Sì, bella ragazza. Eh, mica, gli mandi il video, gli ho parlato di te a Muschio Silvangio. Metteremo i sottotitoli solo per te. Solo per te, Tina. Mi è venuta anche a trovare in ospedale la tua città. Grande, grande Tina. Grande ragazza, lei ha chiamato i soccorsi, infatti stavo dicendo prima che sono stato molto sfortunato all'inizio per quello che è successo, perché non è una cosa che doveva succedere. Poi dopo sono stato fortunato a mantenere la lucidità, ad avere Tommy a mio fianco, che non era impressionabile, diciamo, era impressionabile, però ci sapeva fare in questi giorni. Il fatto che lo squalo non sia tornato. Sì, il fatto che lo squalo non sia tornato, il fatto di avere la pinna che magari è rimasta in bocca, e Tina che nel mentre Tommaso mi soccorreva chiamava, insomma un sacco di coincidenze. Anche ad avere la lucidità tua, perché comunque hai fatto fondamentalmente tutte le azioni migliori che poi essi, senza magari neanche saperlo, cioè il fatto di mettergli la gamba. Infatti lì, per una delle prime volte nella mia vita, dopo essere riuscita a vivere in Australia da solo e aver fatto fiero a me e mio padre, diciamo che lì mi sentivo veramente fiero di quello che avevo fatto. Porca droga, ma il tuo padre fa? Ho vinto con lo squalo. Hai vinto con lo squalo, infatti mi preoccupava ogni tanto. Bear Grylls ti fa una pippa, cioè oggettivamente. Mio padre ogni tanto mi fa quando sono triste, ma ti rendi conto di cosa cazzo? Minchia raga, credo che tu e quante persone possono annoverare? Le sto conoscendo tutte. Quante sono? Eh, non sono tante. Tipo? Eh, io ne ho conosciute otto, però non più di otto. Ma c'è una community sul web di... Sì, uno fa addirittura immersioni con degli squali e ci siamo messi d'accordo, cioè ci dobbiamo mettere d'accordo per incontrarci e magari registrare un documentario. Ok, però non fate immersione con gli squali. No, io ci vorrò assolutamente tornare. Ma che cazzo, ma scusa? Ho già chiesto a un paio di miei amici se volessero venire, ma tipo il mio amico Sam non vuole. Vabbè, però è sempre in sicurezza raga, già mi è andata di culo una volta, no? No, vabbè, ma sicuro. No, lo fai, lo fai, non dico in modo sicuro, perché era sicuro anche quello, perché lo scuolo non ci doveva essere, però lo fai con la consapevolezza che ti stai immergendo. Certo, ovviamente è diverso, sicuramente è diverso. Lì sai i comportamenti, sai come agire, sai tutto, non è che ti cogli la scuola. Ci sono comunque degli elettrostimolatori che li allontanano. Dei dissuasori. Sì, un sacco di cose. Comunque ci vai già sapendo cosa vai a fare. Ok, quindi arriva e arriva, fortunatamente riescono a bloccarti l'emorragia, con il laccio, chiamano i soccorsi e iniziamo a tornare. Tu rimani sveglio? Sì, sì, sveglissimo. Madonna. Mai stato così sveglio. Meglio svenire. Ok. Fosi stato così sveglio all'esame sarei andato benissimo. C'erano un paio di problemi. Il primo è che c'erano davvero tanti metri in salita da fare e non eravamo per niente vicini al punto dove ci avevano detto di arrivare, dove sarebbero arrivati i soccorsi ovviamente. E scusa, non sono venuti in spiaggia? No, assolutamente no. No, perché non potevi ne a atterrare con l'elicottero né venire giù con l'ambulanza. Hai dovuto andare tu su? Sì, che poi oltretutto sono state messe delle foto di sentierini, no? Però non sono quelli, cioè quel sentierino proprio il nostro era molto peggio. Ma raga, ma che sbatti? Ma scusa, ma non potevano scendere loro? Eh, ci sarebbero venuti incontro, solo che ci mettevano un po' di tempo. Ah, quindi per accelerare i tempi siete andati? No, no, Tommy mi ha detto proprio, Matti ti devo portare su perché loro arrivano su. Ok. E allora nulla, Tommaso mi prende in spalla e cerca di tenermi la gamba sollevata perché avrei perso meno sangue facendo ciò. Lui, bravissimo, ripeto. Altro colpo di fortuna, incontro quest'uomo che aveva due bambini, uno, due, che li abbiamo subito mandati via dicendo no, 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 c'è del sangue qua là. E beh, certo. E questo uomo oltretutto, un uomo grande, mi ha preso, mi ha portato su insieme a Tommaso. Tommaso era distrutto, infatti a un certo punto io, mentre morivo, guardo Tommy e dico guarda che ti devi fermare, riposati perché se no, se non ci arrivi te, non ci arrivo neanche io. E certo, e quindi subentra un action man australiano? Lui, un altro punto di fortuna perché senza di lui non so se saremmo mai riusciti a arrivare su. Dio benedica i culturisti in spiaggia. E allora nulla, riusciamo ad arrivare a questo parcheggio e prima cosa che nota è che non c'è l'ambulanza. No! Ma come? E lì per la terza volta, cioè i tre punti, quello era il terzo punto in cui mi sono detto, bene, muoio. C'è stato un quarto. Che è un calvario, eh. Perché il quarto fa ancora più ridere, no? Mi mettono, mi mettono coricato per terra con la gamba sollevata su un muretto di cemento, lì sentivo veramente tanto male e ho iniziato proprio a svanire. Sentivo il mio corpo che se ne andava, non sentivo letteralmente niente. Tommaso mi chiedeva come stai, io dicevo bene, tanto per dire, però non stavo per niente bene. Poi mi ricordo che riuscivo a respirare sì o no proprio poco poco poco. E a un certo punto finalmente arrivano i paramedici con l'ambulanza, no? E la prima cosa che sento dire dal paramedico è, it's a dolphin attack. E io lì mi sono detto per la quarta volta, ok, muoio. Perché? Beh, perché ho detto, mi sono salvato il culo, sono arrivato fin su e mi hanno salvato, mi hanno portato su. Adesso c'è un paramedico che pensa che sia stato un delfino, non c'è una gamba. Ho detto, beh, se sono nelle sue mani è finita. È per quello che mi sono detto. E lì poi ho smesso di respirare, oltretutto. Quindi hai smesso di respirare in cui l'infermiere ha detto, it's a dolphin attack. E tu hai detto, che culo, boh! È come finire dentro una guerra e dire che era una partita di soft air. Vabbè, vuoi il delfino però c'è la sua bella tentatura. Va che anche il delfino può essere stronzo. Un delfino ti può annegare perché sono mammiferi e sono più intelligenti, però non ti stacca una gamba a morso. Ok, ok. Vabbè, quindi dici, non benissimo. Non un esperto. No, una cosa che mi sono scurato di dirvi prima è che mentre andavo verso Riva, è una cosa un po' brutta questa. Io ho percepito proprio il fatto della gamba perché all'inizio non l'ho vista. Cioè, sapevo che era nella bocca dello scuolo, pensavo non ci fosse più, però non avevo ancora guardato la gamba. Però mentre nuotavo, io facendo questo gesto, sentivo la gamba sinistra staccata che andava davanti alla gamba destra e colpivo. Infatti c'ho dei segni sulla tibia qua che sono l'osso della gamba staccata. Che ti ha segnato. Sì, e una cosa pessima che ho provato è stata le due ossa che si toccano e sentivi dei... Ok, ma c'è troppi dettagli per me, raga. Se non volete che vi svengo qui in puntata. È capitato anche questo. Madonna, raga. Che calvario. Quindi, ambulanza, ti svegli in ospedale? No, prima vedo il mondo. Mio nonno e... Ah, hai avuto proprio un'esperienza mistica? Altro che mistica e poi altre cose che non riesco a raccontare ma le ho provate. Ma tipo? Tipo che ti senti tutta la pancia che si muove, cose strane, fai un sacco di viaggi strani. Tu eri cosciente, cioè nonostante non fossi cosciente avevi percezione di qualcosa. Sì, sì, no, io sono stato 45 minuti cosciente proprio lì sul pezzo vivo. Poi a un certo punto quando mi sono spento, perché prima che mi addormentassero e tutto mi sono spento. E lì ho visto proprio mio nonno, mi sono riacceso un attimo, poi mi sono rispento totalmente. Lì non so se mi stavano spegnendo loro, mi sono spento tutto mio. E lì ho visto la terra che si allontanava. Proprio ho visto la terra che andava via, sì. E una pallina gialla che diventano due palline gialle. Chi lo sa, magari... Da lì poi... Della serie, bene. Una vita, due... Ah, stavi entrando in un'altra vita? Può darsi. O era la seconda possibilità, non lo so. Tutti i tuoi problemi non avevano un senso prima. Eh, lo so. Cioè, tanti e alcuni sì, fondamentali. Certo, alcuni ce li hanno avuti. Però molti problemi che ti facevi prima non avevano un senso. E questa è una cosa che ho percepito in quel momento, che probabilmente era il momento in cui mi stavano trasportando in ospedale. Quando lui dice, hai capito che tutti i tuoi problemi non hanno un senso, è esattamente la stessa sensazione che ho provato io quando mi hanno detto, hai un tumore al pancreas. Che significa anche potresti morire da qui a qui. Sì, però quello è più razionale, no? No. No? No, perché tu lì capisci. Ti giuro che guarda, lui ha detto, ogni problema era secondario. Capisci, rivaluti subito le priorità. Sì. In maniera diversa, sto dicendo. Sono due esperienze diverse, che però ti portano un po' a fare lo stesso pensiero. Purarsi, penso di sì. Ipotizzo, eh. E quindi come descrivi questo? Ah, paura di morire. Sì, più o meno. Paura di morire. Sì, sì, sì. No, perché dal momento, secondo me, in cui valuti tutto ciò che prima era un problema che non era più, cos'è che ti spaventa? Il fatto che probabilmente tu non ci sei più. Sì. Certo, certo. E magari nel suo caso c'aveva un lasso di tempo magari un po' più grande, no? Non è che eri lì e stavi morendo. Sì, però ti dico il ragionamento è il medeo. Cioè, il mio ragionamento, io essendo padre, il mio ragionamento non era sparisco, ma i miei figli sono così piccoli che non si ricorderanno di me. Era l'unico dispiacere che avevo. Ovviamente più razionale, avevo il tempo. E quello dicevo, c'hai un po' di razionalità. Ovvio, ovvio, non ero in coma, però è sempre un'esperienza che ti porta a fare quel tipo di ragionamento. Sì, perché sai che ci puoi andare incontro, però non è che lo stai vivendo proprio in quell'istante. Esatto, no. Però ci sai che ci puoi andare incontro. Meno hardcore. Allora vi faccio un'altra domanda, tutti e due. Flash, però. Questa presa di consapevolezza ha cambiato la vostra vita dopo? No. A me sì. Perché? Perché diciamo che ragiono tutto un po' in un modo diverso e anche su questo ci sto lavorando. Sto cercando di capire tutto ciò che ho metabolizzato in quel momento e in questo mese, barra due mesi in ospedale, perché ho ricevuto veramente tante cose a livello, in tutti gli ambiti. Tante emozioni. Sì, dentro, fuori, persone attorno a me, tutto, ho cambiato tutto. Sì, io ti parlavo proprio di scala di priorità, non a livello pratico, ovviamente la vita cambia. Sto cercando di capire al meglio come assimilare tutto ciò, perché so che è una cosa che mi servirà. Su certi aspetti sono molto più sereno di prima e non la voglio solo capirci di più, però non è che ho capito tutto così. No, no, certo, 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 certo. Però sento già che è cambiato molto. In realtà adesso la mia vita è completamente l'opposto di quello che facevo prima, perché erano Australia da solo con la mia casa. No, no, ma per questo lo chiedevo, perché mi interessa la cosa. Siamo sempre portati a dire che quando sei un sopravvissuto, cioè lui è un sopravvissuto, io, i malati oncologici secondo me sono anch'essi sopravvissuti e si tende sempre a portare avanti la narrazione che se sei un sopravvissuto la vita ti migliora. E invece dal mio punto di vista no, perché io non ho più paura di morire e non aver paura di morire non è una cosa bella. Però magari ti migliora su altri punti di vista. Può essere, però ti dà un sacco di problemi psicologici, psichiatrici. Il trauma devi superarlo, perché non è che lui gli è successa questa cosa e basta, no. Questa cosa si porta dietro un trauma, una cosa che va seguita e se non è seguita nella maniera corretta, come è successo a me per esempio, sfocia in altre problematiche. Certo, certo. Ho capito una cosa fondamentale che il bene in sé è la cosa migliore che ci sia, perché io senza il bene della mia famiglia, dei miei amici, delle persone che mi sono stati accanto non lo ammetto, non sarei andato da nessuna parte. Un bel esempio di presa, no? Quando dicono che ti cambia in modo migliore su certi punti di vista è vero, perché io mi sono reso conto di essere stato magari arrogante in passato su certi aspetti, magari sono stato un po' stupido o non come voglio essere ora. Diciamo che sto cercando di migliorare me stesso nel migliore dei modi, perché voglio dare il massimo di me un po' in tutto, soprattutto in primo piano a me. E ho capito che fare bene è una cosa che voglio provare a fare, ma non solo per le persone qui attorno, per le persone in generale che ne hanno bisogno, perché ho visto che io da solo senza tutto il bene che ho ricevuto non avrei fatto nulla. Ma sai che io sono piacevolmente sorpreso da questa intervista, perché ovviamente mi sono arrivate per osmosi un po' di notizie, no? E c'era chi ti dipingeva come poco lucido, chi ti ha dipinto come poco lucido probabilmente aveva la coda di paglia, ma secondo me ci arriviamo nel senso che io voglio essere... Certo, certo. Allora ragazzi, togliamo un po' l'elefante dalla stanza. Adesso parleremo di ciò che, perché ovviamente Matteo diventa un caso di cronaca in questo paese, non solo per l'avvenimento che è già di per sé raro, diventa un caso di cronaca perché a satellite di questa tragedia una giornalista si mette in mezzo facendo un'inchiesta riguardo ad una raccolta fondi... Non è una giornalista. Lo so, ha giusto, hai ragione. Ha aperto un'inchiesta su una raccolta fondi che riguardava Matteo e ovviamente questa cosa ha generato delle cose. Io ve lo giuro, voi lo sapete, io non lo nego, a me Selvaggia Lucarelli non sta simpatica. Voglio provare, vi giuro, ad analizzare questa cosa con più onestà intellettuale possibile. Cioè non mi voglio prestare al gioco del attacchiamo a tutti i costi. Quindi vorrei che tu ci raccontassi le cose, come sono successe, abbiamo anche delle stories che ha pubblicato Selvaggia Lucarelli e cercare di capire cos'è accaduto, come è accaduto, che impatto ha avuto su di te. Facciamo un attimo un rewind, esperienza diciamo extrasensoriale, essenzialmente ti porto in un ospedale, ti risveglio in un ospedale. Mi risveglio in un ospedale, la prima cosa che faccio, che mi è stata raccontata due settimane dopo questa, perché io lì non capivo un granché, la prima cosa che faccio è sorridere. Questo mi è stato raccontato, infatti un'infermiera mi è venuta a dire guarda, sei una persona fantastica, perché tu ti sei risvegliato in reanimazione e hai iniziato a sorridere, praticamente mi ha raccontato che ho preso il telefono, ho iniziato a farmi selfie con le persone che mi avevano salvato la vita, di fianco, no? E io queste foto le ho scoperte, le ho viste due settimane dopo che le avevo fatte, perché non mi ero ricordata. Cioè avevano dato morfina di tutto, eri fattissimo. Ero sotto chetamina, infatti un piccolo aneddoto, una volta mi hanno raccontato, sempre gli infermieri, io non me lo ricordo, che alle tre di notte avevo messo della tecno, io non ascolto la tecno, con uno speaker che non so neanche... Ma poi proprio stereotipo della chetamina. Fuorissimo, no? Avevo messo la musica alle tre di notte con questo speaker, che non so di chi sia, però ce l'ho ancora io, e ho svegliato un reparto e pensavano che avessi una crisi epilettica, perché ero a letto fare così, e sentivano il letto che sbatteva. Io non mi ricordo nulla di tutto ciò. E invece eri solo fatto. Mi è stato raccontato, io non so se crederci, penso di sì, perché tutti i giornalotti ce l'avano con me. Certo. Però vabbè, fatto sta che mi sveglio in rianimazione, purtroppo vedo gente che entra viva, che esce morta, non è una bella scena, e io lì subito capisco la gravità della situazione. In quel momento però ero preso bene, perché ero vivo. Certo. Diciamo che l'ultimo ricordo che avevo era sono morto. E invece sei vivo. Ero convinto di essere morto, e poi quando mi sono svegliato sapevo già che la gamba non c'era. Chiaro. Quindi diciamo che non è stato un... Una sorpresa. Oh no. Certo. Certo, sicuramente non ti svegli contento. Però ti svegli... Non è facile. Sei contento di essere sveglio? Non ti svegli contento, ma sei contento di essere sveglio? Non ero per niente stabile, proprio per niente, me l'avevano detto chiaro e tondo, e io ho fatto dire a casa che stavo bene, perché mi hanno proprio chiesto cosa diciamo a casa, perché sono maggiorenne, puoi dare una... Puoi scegliere. Esatto, poi c'era mia nonna, che gli era appena morto il marito, mio padre gli era appena morto il padre. Quindi tu hai detto, diciamo, diteli che sto bene. Io non volevo dare il peso, e praticamente la mia famiglia, i primi giorni, cinque, diciamo che loro dal secondo giorno pensavano che io fossi salvo. I primi giorni, diciamo anche la prima settimana, non ero per niente salvo. Chiaro. E cosa succede dopo? Mi sveglio qualche giorno dopo, in questi giorni io non mi ricordo di preciso cosa avevo fatto, perché non ero lì, diciamo. Cioè ero lì ma non ero presente. Non eri presente te stessa? No. E mi ricordo però una mattina in cui mi sveglio, dopo un sogno stupendo, ero con i miei migliori amici a Prato Spilla, che è un posto dove andiamo a sciare, che correvamo nella neve, non so perché, non avevo mai sognato la neve, e mi sveglio, sono sempre in quel lettino, con gente che sta male attorno, avevo sentito uno che tossiva tanto e poi ci ha lasciato le penne, insomma, terribile, macchine che suonano ovunque, tu sai che non stai bene, e mi ero svegliato dopo questo sogno e avevo visto di nuovo la mia gamba e lì non l'avevo presa per niente bene. Diciamo che ogni mattina in cui ti svegli in ospedale, in quella situazione, non è che stai meglio giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno realizzi solo il fatto che... La tua vita è cambiata. Che è cambiata e non sai a cosa vai incontro, tu sai solo che tutto ciò che eri prima per ora è svanito. Chiedo agli infermieri, sopravviverò, gli infermieri ovviamente non mi rispondono, primo perché in Australia sono molto secchi e non stanno lì a coccolarti come in Italia. Senza fronzoli. E puntuale arriva il medico che mi avrebbe operato, o uno di tramite, non lo so bene, che mi ha detto domani ti dobbiamo operare d'urgenza perché hai un'infezione alla gamba. Setticemia praticamente rischia. Un'infezione da squalo, predatori che mangiano carogne e oceano è qualcosa di pesantissimo. Hai rischiato la setticemia seria. Sì, non voglio dire che è come dire prendere la rabbia da un cane, però è qualcosa di gravissimo. No, 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 è minchia. Nulla, io lì spiazzato e poi mi hanno detto non sappiamo se ti taglieremo tutta la gamba o no. O fino al moncone, fino a... No, no, fino a qua. Fino all'anca. O se riusciremo a salvartelo. Ti lasciamo il moncone, sì. E oltretutto non sapevano se io avrei passato l'operazione. Chiaro. Quindi per un'altra volta io ho detto... Hai dovuto affrontare un'altra volta la morte. Sì, e allora cosa succede? È successo tutto in pochissimo tempo in realtà. Non era passato un gran che da quando mi ero svegliato tutte queste notizie terribili. Cosa faccio? Prendo in mano il telefono, tutto intubato, attaccato a un sacco di cose, per sentire i miei amici. Come avevo fatto i giorni prima, ma io non mi ricordo in realtà. Mi hanno raccontato le chiamate che avevo fatto, ma non mi ricordo. Prendo in mano il telefono e... Prima cosa che vedo sono tanti, tanti, tanti. Non so dire quanti, ma più di migliaia, 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 migliaia di messaggi. Che mi dicevano, tu è giusto che stia morendo, tu dovevi morire nella bocca dello squalo, impiccati con lo stesso cordino con cui hai legato il pappagallo. Pappagallo che era in uno zoo, io ci ho fatto una foto sulla spalla. In che senso? Ma perché mi hanno voluto scagliere addosso degli animalisti mettendo una mia foto con un pappagallo con un guinzaglietto. Ah, per dipingerti come uno che... Sì, come uno che lega i pappagalli, li strozza. Quel pappagallo stava da Dio. E come nasce quest'odio? Da cosa scaturisce quest'odio? Stavamo parlando sempre di quella non giornalista che mi ha voluto lanciare addosso tutto ciò. Tu sei incazzato nero, vero? No, io non sono incazzato perché non... Sono incazzato in parte perché non tollero comportamenti del genere, non tollero una, possiamo dire, anche falsità del genere su ciò che viene detto perché una persona, quando scaglia tutte queste persone che la seguono contro un qualcuno che già sta male, sa che gli farà ulteriormente male. Io, personalmente, una persona nella mia situazione, questo non c'entra a nulla, è con quello che mi è successo, però una persona che già sta male di suo, qualsiasi cosa abbia fatto, se non uccidere dei bambini o robe pessime, non puoi metterli contro un esercito. Faccio l'avvocato del diavolo, ma pensa a te cosa mi tocca fare, però credo sia giusto farlo. Che cosa ti dice che... Cioè, perché imputi la colpa a lei? Nel senso che una può dire, io ho fatto la mia inchiesta. Hai capito? Io ho fatto la mia inchiesta, ho detto le mie cose, poi quello che fa la gente non è colpa mia. Questa c'è l'aspirina, guarda. Questa, questa, questa. Grazie. Capisci il ragionamento, no? Ha senso? Beh, certo, diciamo che in certi casi... Qua è l'aspirina. Eh? È l'aspirina. Qua c'era l'aspirina. Qua c'è l'aspirina. Ma mi stai prendendo per il culo? No, no, sentila. Guarda, eh. È ketamina adesso. Cazzo è vero. Vabbè, non morirai per un goccio d'aspirina, ci dai, spero. No, allora, in realtà ci sono magari delle responsabilità dirette nel momento in cui una persona che fa un'inchiesta ovviamente non prende le cose nel migliore dei modi, non utilizza il giusto tono, ne abbiamo parlato tra l'altro anche con Davigo, nel suo caso, no? Un PM, quindi si lavora con dei casi particolari, come potrebbe essere il tuo. Giustamente un giornalista decide di approfondire una raccolta fondi e penso sia anche giusto assicurarsi che il tutto venga fatto in trasparenza e secondo me in alcuni casi, poi adesso ci farei vedere anche la documentazione, in alcuni casi ci può essere una responsabilità da parte della giornalista, del PM, eccetera, nel momento in cui non si tratta con il giusto tatto la vicenda e a maggior ragione se poi viene fatta un'incitazione diretta, esempio, no? Questo ragazzo ha detto un sacco di cazzate, non è il caso tuo, no? Andate ad attaccarlo sul profilo, no? Se tacciate il suo profilo e trovate ogni foto compromettente, ovviamente è molto difficile perché difficilmente lo si fa almeno in chiaro. Poi succede sui gruppi Telegram e in altri liti magari più nascosti dove si organizzano delle vere e proprie shitstorm. Poi da lì c'è un mondo perché ovviamente c'è la responsabilità parziale, responsabilità in diretta. C'è una cosa secondo me che il giornalismo in generale, senza andare nello specifico di Selvaggia Lucarelli, però chi tratta questo tipo di inchieste non ha preso una cosa buona che fanno i content creator di YouTube. Cioè solitamente quando un content creator di YouTube fa un'inchiesta o dà contro qualcuno, la prima cosa, è proprio una regola non scritta di YouTube, è dire questo è la vicenda, non andate a cagare, almeno ci provano, almeno ci provano a dirlo. I giornalisti e i non giornalisti del settore del giornalismo no, non hanno questa abitudine, anzi, però arriviamo alla raccolta fondi perché qui il tema mi par di capire che non solo dei follower siano andati ad insultarlo, che non è una cosa imputabile a questa... Non direttamente. Non direttamente. Il tema però sembrerebbe che proprio le cose asserite da Selvaggia Lucarelli non siano nemmeno vere. Dico solo una cosa su quello che hai aggiunto, che è fondamentale. Secondo me andrebbe rivisto, non parlo di lei, ma in generale effettivamente il tono. Perché è fondamentale. Condivido una mia brevissima esperienza da content creator, anche noi con il Cerber all'inizio, abbiamo magari causato dei piccoli problemini, piccole shitstorm, gente che rompeva magari i coglioni dei commenti, per delle nostre critiche eccessivamente aspre. Nel momento in cui però, secondo me ci si rende conto che questa condotta anche involontariamente può causare dei danni, secondo me allora là bisogna cambiare il registro o spiegare in maniera ancora più netta al tuo target che cosa si sta facendo. Perché altrimenti se tu non prendi le giuste contromisure, sei secondo me responsabile. No, però dal momento in cui... Vabbè, vieni quei punti chiave, creputo giusti da dire. Intanto, che cosa ha detto nel merito dell'inchiesta? Allora, io non ho ancora mai parlato di tutto ciò, e sono qua oggi con voi proprio perché so che mi date l'opportunità di parlare apertamente, senza tagli, senza... Sì, sì, io premetto perché so già che è stata una linea difensiva della Lucarelli dire sfruttate questo ragazzo, i media lo stanno... Io mi sono sentito con Matteo, con Sam, che è un suo amico, io gli ho detto innanzitutto, in vicinanza rispetto a ciò che è accaduto, gli ho detto se mai vorreste avere uno spazio per raccontare questa cosa, non sentitevi forzati ovviamente, quindi questa è una decisione consapevole di Matteo, perché esattamente come Selvaggia Lucarelli fa la giornalista, lui può replicare ciò che una giornalista dice, no? Eh beh, quello che dicevamo anche... Senza dover essere additato come un matto che non è capace di intendere e di volere, cosa che mi sembra sgradevole. Quello che dicevamo anche sulla potenza della possibile risposta, in termini di follower, quando abbiamo parlato della responsabilità e della disparità di voce. Anche perché lei ha un milione e trecentomila follower, Matteo non ha questa forza mediatica. Infatti, diciamo la verità, io sono qua oggi proprio perché voglio far passare questo messaggio di ciò che ho provato, ciò che mi è successo realmente qua, perché so che non fate tagli, se fate tagli poi me la prendo con te. Sì, sì, fai benissimo. Non li farete, lo so. E posso, diciamo, dire apertamente quello che voglio dire, no? Assolutamente. Nulla, io reputo sbagliato tutto ciò per qualche punto. No, dacci un po' di contesto però. Sì, assolutamente. Qual era il... In poche parole è stato usato mio nome, mio cognome, mie foto e mi sono state scagliate contro un sacco di persone cercando di farmi passare per ladro, manipolatore riguardo una raccolta fondi. E dopo ulteriori animalisti, se possiamo dire, gente comunque che la segue o che ascolta ciò che dice, contro di me, usando magari foto di un pappagallo sulla spalla che non reputo un qualcosa di giusto. È una tattica tipica, ma non so in questo caso se dei follower di qualcun altro. Si può definire la tattica, perché dal momento in cui... Scusate, possiamo leggere, perché così entriamo proprio nel merito. Assolutamente, sì. Chi te lo fa fare? Se leggeste l'incipit di buona parte dei messaggi che ricevo in privato, vi accorgereste che la maggior parte di questi iniziano così. Con una domanda più che sensata, perché in effetti più passa il tempo e meno sono convinta che valga la pena perdere tempo a spiegare cose che dovrebbero essere ovvie. Breve riassunto dei fatti. Matteo, un ventenne di Parma, gira il mondo, fa motocross e vari sport. È in Australia con amici. È di famiglia benestante, suo padre è proprio da... Ok, fermiamoci. Sei di famiglia benestante? Io devo dire la verità. La mia famiglia non è completo. Mia mamma non mi mantiene, non mi ha mai mantenuto. È un argomento che non voglio toccare quello di mia mamma, perché non è una situazione facile per niente e le voglio un sacco di bene. Però comunque voglio essere sincero. Non ricevo sostegno economico da parte di mia madre, non l'ho quasi mai ricevuto. Anzi, mio padre in realtà, nonostante tutti i problemi che ci siano stati di mezzo, che non voglio raccontare qua oggi, aiuta anche lei per quel che può. Mio padre non è il proprietario di quel locale. Perché dice ovviamente qui che tuo padre è proprietario di un noto locale in centro e di vari immobili. No. Sì, il tema è, anche se lo fosse, cioè scusatemi, vabbè, perché qui c'è il tema della raccolta fondi in realtà, no? Quindi avrebbe un senso, perché uno dice perché fare una raccolta fondi per una persona benestante? Cioè l'altro fatto è che se l'informazione non è reale, perché non la verifichi? Più che altro, perché non porti delle prove? No, ragazzi, comunque io... Tu dici che suo padre ha vari immobili, dove hai gli atti di proprietà? No, infatti... Perché questo dovrebbe fare un giornalista, avere gli atti di proprietà, avere le visure fiscali delle società di suo padre, dire suo padre guadagna un milione di euro. Le ha fatte queste verifiche? non sembra esserci queste verifiche. Mio padre non è... Perché non sei tu che devi dimostrare di non essere benestante, è lei che deve dimostrare che tu sei benestante a casa mia. Infatti, per me quelle sono solo chiacchiere che purtroppo tanta gente ha ascoltato. Chiaro, eh sì, perché è quello che penso io. È quello che penso io. Uno da peroro colato quello che scrive questa persona. Penso che quelli siano... Comunque, fa viaggi in Tasmania, si dice che studi, ma non si capisce cosa e dove, ma anche questo, ma che cazzo te ne frega, vabbè. E lì, si dice, da circa un anno, ma guardando le sue storie in evidenza è chiaro che quest'anno è tornato in Italia più volte. Assolutamente sì, c'era mio nonno che non stava bene, dovevo tornare e soprattutto volevo tornare. Sono tornato con i soldi che mi sono guadagnato in Australia. Una d'estate, sei stato a Monte Carlo, Forte dei Marmi e Liguria. Assolutamente sì, primo perché in Liguria abbiamo una piccola barchettina di sei metri che costano, per l'amor di Dio, sei mila euro, quindi non ho la barca. Mi piacerebbe. E sono stato a Monte Carlo da una mia amica che compieva gli anni e mi ha ospitato a casa sua, a Sanremo, a Monte Carlo, ci siamo stati in giornata un giorno. Ma è follia? No, no, infatti no. Io sono scioccato, raga. In realtà qua ti dipinge come un piccolo Ricci Ricci. Voglio chiarire un fatto sul fatto del benestante. Io, per l'amor di Dio, non muoio di fame. Mio papà ha sempre cercato di non farmi mancare nulla della serie di di necessario. Benestante ha un termine ben preciso. Non sei benestante mi pare di capire. Ma no, non ho un sacco di soldi da spendere. Però diciamo non sto neanche malissimo. Non voglio fare la figura di quello che adesso chiede soldi perché non sta... Comunque io senza questi problemi campavo bene. Mio papà se c'era bisogno mi aiutava. Era comunque un anno e passa che non chiedevo un centesimo perché me la cavavo da solo. Però diciamo anche la mia gioventù non è che sono stato senza soldi. Infatti da qui nasce il tema. perché viene fatta una raccolta fondi? Chi la fa e per cosa viene fatta questa raccolta fondi? Sinceramente io bene non ho i soldi per comprarmi delle gambe performanti questo lo ammetto. Ciò non vuol dire che comunque io sia... Ricordiamo che una protesi per le gambe può costare e lo posso dire testimoniare io perché con mia moglie abbiamo comprato una protesi a una ragazza era una protesi più lunga quindi lei non aveva il moncone. Una protesi decente che non sono quelle che ti passa allo stato. quella che abbiamo preso noi per quella ragazza lo stava a 80.000 euro cioè per farvi capire questo è più o meno... Ti faccio una domanda quella protesi dura la vita? No. Ah beh certo. Tu se hai 20 anni e vuoi fare degli sport quella protesi poi la devi ricomprare almeno quelle 5-6 volte nella tua vita. Certo. E poi oltretutto la protesi di cui stai parlando te ti assicuro che non è una protesi universale perché con le protesi non ci puoi sia andare in bagno che fare la doccia che andare in mare. Ci sono anche varie mansioni. Esattamente quindi non è che ne devo prendere una. Detto sinceramente magari se vuoi correre ti devi comprare quella proprio Se vuoi una vita normale per andare in bagno devi avere la protesi da bagno io ti vorrei continuare con i miei sport e mi è stato dato del viziato per questo. Ma in che senso? Sì, sì, no perché c'è gente che mi chiama viziato. La vera domanda è questa tu ti potevi permettere le protesi o una pro... Cioè ti potevi... Ragazzi di protesi io posso dire la verità se devo comprare una protesi da 20.000 euro per fatto mio mio papà in qualche modo mi aiuta cerchiamo di trovarli poi in caso abbiamo purtroppo la casa del nonno che è venuta a mancare in caso un qualcosina si ricava in montagna questa casa che non vale non è una casa in città Minchia, sai che mi spiace che ti devo fare i conti in tasca porca puttana No, no ma per l'amore di Dio voglio... Io sono imbarazzato Ripeto mio padre non mi ha mai fatto mancare nulla di cose essenziali ho sempre vissuto bene diciamo che sono riuscito a farmi comunque anche da giovane senza lavorare una qualche vacanzina poi io l'ho sempre aiutato però diciamo come possiamo dire molti ragazzi di oggi fanno come praticamente tutti i miei amici che conosco fanno poi mi sono sempre dato da fare perché sono sempre andato a lavorare d'estate non sono stato un fan nullone diciamo anche in infanzia No, no io quello che vorrei sottolineare è che in realtà non bisognerebbe fare il conto in tasca al Matteo di turno bisognerebbe semplicemente capire se l'impostazione della raccolta fondi è corretta cioè se le richieste poi sono in linea con quello che effettivamente la persona X che è una raccolta fondi va a fare perché poi è stato contestato questo dico solo una cosa a me è capitato di anche apprezzare alcune inchieste di Selvaggia Lucarelli ma purtroppo ciò che disprezzo è questa modalità di costruzione un po' della figura che debba essere istantaneamente etichettabile cioè già da poche righe ti ha descritto con uno stronzo ma come un figlio di papà viziato voi se avete un dubbio fate una domanda o scatenate contro un ragazzo che è in reanimazione e questo purtroppo è il modus operandi di Selvaggia Lucarelli è quello che dicevo cioè la domanda non ti ha mai contattato? no l'ho contattata io lei non ti ha mai scritto? non ha mai scritto il tuo padre? ti spiego prima di scrivere questo post intendo di quando è quel post? c'è la data? no ho tagliato sopra trovala ti prego guarda i commenti sotto trovala no comunque io comunque il 14 l'ho scritto dicendole che l'avrei parlato volentieri l'avrei spiegato il tutto nonostante fossi sotto farmaci e tutto e non fossi lucido mi sono sforzato di farlo perché non ha aspettato a scrivere l'articolo prima di sentire no lei non m'ha assolutamente ascoltato aveva visto quei messaggi non mi ha risposto e io ti dico da fare una domanda come dice di aver fatto lei perché lei adesso sta dicendo io ho fatto una domanda no non è vero perché io mi sono ritrovato migliaia di persone che ce l'avevano con me e quindi tu la domanda se la volevi fare usando il mio nome il mio cognome la domanda la facevi a me dal momento in cui io non sono né il fondatore né colui che l'ha scritta la raccolta fondi né il destinatario dei soldi perché il destinatario era mia zia io non centro fondamentalmente nulla perché io non ho ancora messo mano a un centesimo ma lei ha sentito tua zia? no ah nemmeno tua zia? no io non ho messo mano neanche a un centesimo di quei soldi allora devo dire posso dire una cosa scusa se ti interrompo purtroppo è il modus operandi di Selvaggia Lucarelli lo posso testimoniare anch'io a me quando ha fatto un'inchiesta sulle famose uova di Pasqua mie che sfido chiunque oggi a vedere come sono state svolte le mie operazioni di beneficenza lei mi accusa di aver compiuto una cosa poco trasparente contattando l'azienda delle uova di Pasqua per deontologia per deontologia un giornalista dovrebbe sentire anche me il mio ufficio stampa o una persona che mi rappresenta e chiedere spiegazioni lei non lo fa perché si sente dire quello che vuole sentirsi dire lo pubblica quando io le faccio notare che avrebbe dovuto contattare anche me che dopo ho dato spiegazioni in seguito dice io non ero tenuto a sentirlo e no e poi dice Federico ha cambiato le cose in corsa no non me le hai mai chieste io su questo la penso leggermente in modo diverso nel senso che non è per forza un obbligo deontologico di un giornalista per me come la vedo io no no ma la deontologia di un giornalista dice così no no io dico contattare magari l'oggetto dell'inchiesta no perché magari uno potrebbe dire o prende contromisure eccetera però quello che invece cercavo di dire prima anche nel merito del tono ecco qua è tutta la differenza del mondo cioè lei avrebbe potuto fare tranquillamente queste domande un certo punto l'amico che lo soccorre gli dà del coglione perché non ha l'assicurazione sanitaria Matteo per fortuna si salva ma gli viene amputata la gamba dovrà restare lì per un po' e poi tornerà in Italia sì senza una gamba comunque cioè non è che gli hanno mangiato la gamba e poi se ne torna in Italia a festeggiare con i pasticcini sui giornali esce che non ha assicurazione sanitaria ma Matteo su Instagram carica il video dell'aggressione dello squalo e precisa che l'ha stipulata in Italia e tu hai appena spiegato la questione quindi lei non si informa e per sapere questa cosa avrebbe dovuto chiamare te non qualcun altro quindi non chiamandoti o mio padre ti manda in pasto alla gente ovviamente o mio padre cosa che non ho mai fatto posso dire questa è proprio incompetenza sai cos'è che mi ha dato veramente fastidio il fatto che si è usato proprio il mio nome il mio cognome le mie foto e io fondamentalmente non avessi fatto nulla perché non è per togliermi la colpa perché sinceramente non c'è una colpa proprio per quello che penso io non c'è e adesso vi do anche le motivazioni primo io non ero vabbè secondo non ero raccontala senza di me che se no io non riesco non riesco a non parlare ve lo giuro e terzo non ero il fondatore della raccolta quindi non l'ho scritta non l'ho lanciata e non mi arrivavano i soldi in quel momento perché arrivava una mia zia questo perché io non ero in grado di dare i miei dati e tutto perché non ero in una condizione normale ero in rianimazione e cosa succede no la raccolta fondi c'era scritto che era per spese mediche queste spese mediche dovrebbero esserci state in realtà perché in Australia spendi 1400 dollari al giorno stare in ospedale però c'è da dire che l'Australia ha valutato il tutto no essendo che io sono stato aggredito in una spiaggia dove si poteva fare il bagno e tutto e in poche parole l'Australia e poi l'ospedale mi hanno detto qua è tutto ok in caso ci sarebbero state quelle spese mediche ok infatti la contestazione questo volevo chiederti la contestazione della giornalista in questione è stata la raccolta fondi è stata aperta per una richiesta di spese mediche certo che però in realtà sono state diciamo sgravate dall'Australia fortunatamente sì quelle spese sono venute meno ok e voglio dire un'altra cosa durante tutto ciò la raccolta fondi è stata messa in pausa e contattato polizia avvocati e tutto per vedere se tutto ciò era legale perché abbiamo detto mia zia i ragazzi hanno detto cazzo magari stiamo facendo qualcosa che davvero non va bene perché noi comunque l'abbiamo lanciata un po' di fretta qua c'è un mio amico che vabbè lasciamolo da parte non voglio metterlo in mezzo comunque è uno di quelli che ci entra con questa raccolta e lui mi ha spiegato perché è stata così perché loro volevano starmi accanto e non sapevano come fare diciamo che hanno preso le contromisure istantaneamente magari anche sbagliando qualcosa ma infatti ma sbagliando in realtà è relativo lo sbaglio perché uno dipende da che punto di vista la guarda se la guardi dal punto di vista che l'Australia mi ha aiutato bene quelle spese mediche non c'erano se la guardi dal punto di vista che in Australia devi pagare sì c'erano diciamo che poi appunto come avete fatto l'avete stoppata si può anche modificare in corso d'opera anzi teoricamente teoricamente andrebbe fatto prima nel senso prima si calcolano le eventuali spese te lo dico perché io ho anche diciamo corrotto un po' i coglioni sulla questione raccolta fondi nella mia vita però magari uno fa un calcolo approssimativo ovviamente oppure in quel caso mette all'interno dell'equazione per semplificare più cose come ecco la protesi banalmente che è effettivamente una spesa gigantesca e sarebbe stata assolutamente le protesi varie di vario tipo ma infatti quello che voglio dirti io è secondo me la metodologia di tono che è stata usata voglio tornare su questo perché il dubbio il legittimo dubbio da giornalista o anche da diciamo libero ricercatore ci può stare però formulato in questo modo è drammatico e anche se magari tu hai ragione da un certo punto di vista a dire qua hanno fatto un errore non hanno specificato bene tu comunque crei un danno che è sproporzionato quindi secondo me l'impostazione sarebbe dovuta tranquillamente essere ci sono delle cose che magari non tornano chiediamo delle informazioni che ne sono all'ospedale anche ad altro ma soprattutto a chi cazzo gli ha chieste queste informazioni se non le ha chieste a lui ma qui la svolta gli amici un folto gruppetto di ventenni in poche ore organizzano una raccolta fondi per spese mediche non si capisce quali però ma in che senso io li ho capite vabbè in Italia la sanità è pubblica abbiamo spiegato anche prima che l'Italia la sanità è pubblica ma certe cose lo Stato non te le passa e poi soprattutto non ero in Italia ma io ripeto la contestazione corretta sarebbe stata ok dovete specificare meglio le motivazioni non era strettamente per un motivo di assistenza ospedaliera bensì però poi magari l'avete scoperto dopo le varie protesi o appunto i vari viaggi che hai dovuto sostenere posso fare un esempio solo ed esclusivamente per tornare a casa per la mia famiglia che mi viene a prendere in Australia e mi porta a casa 26.000 euro e una domanda io senza riuscire a tornare a casa come faccio ad avere quella sanità gratuita questa è una domanda che vorrei fare a lei ma tu sei benestante per l'amor di Dio quei 26.000 euro li abbiamo spesi tutta la famiglia cioè non mio padre basta perché mio padre basta in quel momento non ce li aveva perché non è che li trovi così colletta familiare mi ha aiutato mia cugina mia zia mio padre tutti quindi possiamo dire benissimo che non sei benestante ma ragazzi per benestante per me vuol dire stare bene di norma perché io sono sempre stato abbastanza bene però diciamo che andando incontro a problematiche del genere non le riuscirei ad affrontare con facilità poco tempo grazie alla stampa politica che spingono la raccolta o raccontano la vicenda il tetto dei 50.000 euro è raggiunto allora gli amici lo portano a 50.000 forse a 100.000 sì no ma questo posso dire anche perché perché una volta arrivati i 50 essendo che ci siamo ci sono perché io non sapevo nulla di queste in realtà ci sono arrivati molto facilmente all'inizio infatti io sono stato stupito da tutto questo supporto e ho guardato tantissime donazioni le ho guardate tutte e prima di tutto ringrazio perché è veramente un grande aiuto il secondo piano dico che molte di quelle sono persone che io personalmente conosco o famiglie quindi inizialmente era tetto 50.000 poi hanno aumentato questo perché che degli amici di mio padre in realtà ce l'hanno chiesto come facciamo a mandarglielo vedete quest'altra frase a cosa serve chissà le spese sono limitate mentre finiva la prima flebo cioè a me non piace questo modo hai perso una gamba per me ci sta nei confronti di un politico fai un'invettiva e lo condisci anche con un po' di satira lo sta trattando come uno non hai perso una gamba hai perso tutto cioè tu hai capito questo che dico a che serve seriamente dico a Selvaggia Lucarelli a cosa servono nel momento in cui vuoi magari attaccare criticare un politico ci può stare la satira fa parte anche del codice giornalistico però non capisco il perché dare una definizione mostrifica tutto questo mentre lui era in ospedale altro che lo squalo al mostro posso dire una cosa riguardo a ciò che se lei avesse detto fatto il nome della ragazza che aveva fatto la raccolta fondi o di mia zia destinataria e tutto non avrebbe fatto notizia la cosa quindi ovviamente su chi punta su di me è per questo che io contesto il metodo perché io sono d'accordissimo sulla richiesta di trasparenza e anche sulla critica eventualmente alla configurazione della raccolta fondi ma se vai in olino in questo modo le strade sono due o lo fai perché ormai quello è il tuo tono e devi continuare a mantenerlo ma secondo me è sbagliato oppure lo fai perché devi creare quel mostro è quello che sto dicendo io altrimenti se non crei indignazione non crei notizia non ti caga nessuno cioè se poni una domanda sensata come dovrebbe fare un giornalista serio magari qualcuno indaga fai anche un esposto volendo questo è un modo che crea hype che crea viralità dire guardate che dietro il ragazzo dello squalo c'è un truffatore o una famiglia di truffatori e per quanto mi riguarda condire delle domande sensate qualora fossero state poste come tali con delle definizioni diciamo mostrificanti fa solo un danno anche alla tua causa virtuosa di fact checker che poi magari ci arriviamo visto che è successa una tragedia quindi denuncio le estrenze pubblicamente mi contatta l'amica che ha organizzato la raccolta su change.org la tua amica quindi che con fare mellifluo bel termine si offre di chiarirmi tutto e mi chiarisce che non hanno la più pallida idea della destinazione ultima dei soldi a livello di spese mediche parla confusamente di ipotetica fisioterapia psicologi protesi tutte cose coperte dal servizio sanitario nazionale non è vero questa è una falsità le protesi le protesi vere che ti fanno vivere non le passa il sistema sanitario nazionale che parli con Bebevio che parli con tutte le persone che hanno le protesi non è vera questa cosa è una cosa falsa e poi posso fare una domanda come fai a chiedere dove vanno a finire quei soldi se io sono ancora in un ospedale sotto i ferri e non so neanche se è campo cioè la risposta e lei ti direbbe se fossi morto no no ma in quel momento in quel momento la vera risposta è che non si sapeva però io penso che dal momento in cui uno dona vedendo ciò che è successo non è che sta lì a dire io voglio il conto preciso di quello che gli serve ma io penso che come tutte le persone che conosco io che nessuno è tornato indietro a chiedermi i soldi per esempio nessuno in disaccordo ma addirittura parla di truffa qua certo no no io sono un truffatore poi sono passato per manipolatore poi sono uno psicopatico capisco anche una cosa magari la velocità nell'istituzione della raccolta fondi anche per giustamente da parte vostra forti della notizia perché appunto ne avevano parlato delle giornate era per ovviamente portare più persone ad interessarsi della storia al massimo avreste dovuto mostrare eventualmente i bonifici insomma quei soldi utilizzati dopo quindi voi avreste dovuto questa è una cosa che sicuramente farò io avrò la possibilità di comprare queste prove e farò vedere tutto a me è capitato di chiedere una cosa molto simile ad uno youtuber che adesso non chiedo perché non ho mai ricevuto nulla però anche un altro modo per dimostrare la trasparenza di un raccolta fondi e farlo successivamente quindi tu dimostri con fatture insomma ricevute di qualsiasi tipo che tutti i soldi sono stati utilizzati per un fine inerente alla vicenda ovviamente io ti dico solo per tornare a casa sono 26.000 non lo devi dire a me ma sapete che più vado avanti io più sono però io non scusate ragazzi non è che devo essere qua per dimostrare qualcosa ma infatti ma andiamo avanti non lo devi dire a me no ma raga scusate ci avevo freddo adesso c'ho caldo allora scusatemi io veramente oh ti giuro non li avevo lette queste cose sto leggendo adesso per avere first reaction allora scusatemi mi scrive una persona che nel giro degli amici c'è una chat dove mi danno della troia della puttana l'organizzatrice della raccolta quella dei Tony Melliflui che mi diceva che ero aggressiva non batte ciglio e permette agli uomini del gruppo di essere insultata e scusami quando tu scateni queste cose il tuo pubblico verso il ragazzino allora anche tu sei tenuta a dire di non insultare il ragazzo perché non lo fai mai non l'hai mai fatto in vita tua ma poi non basta e agli altri inputi questa colpa qui non basta solo secondo me anche dirlo perché poi alla fine ripeto se lo dici ma continui ad utilizzare dei toni sprezzanti che dipengono le persone in un certo modo ovviamente l'effetto è il medesimo cioè dici ragazzi non andate a insultare però costruisci una figura insomma un po' arriviamo alla parte più squallida secondo me pubblico alcuni di questi commenti le anime belle che raccolgono soldi per l'amico chiudono i commenti lasciati in fretta e fura minacciando denunce alla spia le denunce le minacciano loro mica io ah 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 nel frattempo mi scrivono questa parte qui spiegamela tu Marra perché magari sono scemo io spiegami ai fini giornalistici a cosa serve questa roba un ragazzo perde una gamba e c'è una raccolta fondi opaca nel frattempo mi scrivono conoscenti di Matteo che non descrivono esattamente il ragazzo come un tipo pacifico gentile e indigente ma le voci non ci interessano e allora perché le scrivi? questo è un metodo molto anguillante per dire un qualcosa e negarla successivamente in realtà lo hai scritto neanche sai in diretta televisiva dici una cosa vabbè ma sono andato a lunga lascio perdere è un modo per comunque continuare a gettare ombre è quello che ti dicevo prima cioè purtroppo è una struttura fatta appositamente per non è che che ne so in un contesto di diretta dice una cosa scusate ragazzi me la rimangio questo non è influente torniamo ai fatti no l'hai scritto l'hai scritto l'hai pubblicato quindi è un intento preciso non è un errore oh mio dio ma davvero l'ha scritto lei la roba no ps guardando le storie in evidenza da Matteo mi viene da dire io mi auguro questa è l'empatia mi auguro che tu possa riprenderti per resto e che tu abbia la migliore protesi del mondo con cui vivere la miglior vita possibile ma visto che ami la natura impara a rispettare gli animali ma come ma che cazzo ne sai tu di come sono andate le cose ma visto che ama la natura la foto con gli uccelli legati e lo squaletto tirato fuori dall'acqua e messo sul tavolo non si posso guardare ah sui giornali i miei colleghi non i miei colleghi non ho più parole ma ragazzi ma che cazzo ma ragazzi dai ma questo è giornalismo quello che dicevi tu Matteo è che diciamo queste affermazioni hanno scatenato certo un po' anche i gruppi di animalisti sì no è normale ma ragazzi con i toni così è normale ho capito diciamo la la cosa dello squaletto diciamo perché io ero con un mio amico che ha pescato questo squaletto e ci abbiamo fatto un video e poi l'abbiamo rimollato voglio aprire una parentesi quegli squali possono vivere fino a 12 ore fuori dall'acqua però ho detto questo non vuol dire che io ho appoggiato uno squaletto su un tavolino per quei 7 secondi e ho sbagliato lo ammetto non è il suo abitato il tavolino però quello squalo stava bene l'ho rimollato era vivo non l'ho mangiato non l'ho ucciso non l'ho fatto nulla ci ho fatto una foto sì magari verso un animale può essere un comportamento egoista però io sapendo che gli animali non muoiono in 20 secondi fuori dall'acqua l'ho fatto non per cattiveria ma semplicemente me lo sono ritrovato a lamo e ci ho fatto una foto soprattutto un giudizio morale se una persona non dovrebbe centrare assolutamente nulla con la questione della raccolta questo discorso ha scatenato veramente tanta gente che mi hanno detto mamma squalo sei venuta a vendicare è giusto no? perché tu sei un bastardo tu sei lì qua tu sei lì là e fondamentalmente questo no? la questione del pappagallo era quella che ci dicevi prima una tua foto vecchia ditemi fondamentalmente cosa c'entra con me un pappagallo ma anche se dicono voci di corridoio che tu sei uno stronzo ok? che senso ha dire in un'inchiesta giornalistica mi dicono voci di corridoio che non è un tipo pacifico ma anche se fosse stato uno stronzo è un tipo non pacifico gli hanno staccato la gamba uno squalo cosa ci serve capire se tu sei simpatico o meno se non per aizzare le persone all'odio e dipingerti come una merda dimmi ai fini giornalistici che senso ha dire che tu sei antipatico cioè io chiamo faccio domande chiedo a cosa servono i soldi se avesse fatto questo sarebbe stata veramente una lavoratrice integerrima io non ho ricevuto l'avrei fatto anche io come ho già fatto in passato ma non ha fatto solo questo ha emesso delle sentenze ti ha descritto in un modo certo poi non so magari c'ha ragione magari sei uno stronzo però non puoi saperlo capisci no? e soprattutto hai utilizzato una comunicazione che va in una direzione precisa e questo è indubbio cioè porre delle domande e dei dubbi sulla trasparenza sulla condotta di una raccolta fondi è giusto ma se tu vedi qualcosa che non va bene ma fammela la domanda ma è anche il lavoro di un controllore come un giornalista ma da domanda puntare il dito su di me in quel momento è evidente ragazzi l'abbiamo capito chiunque conosca un minimo di comunicazione sa come però ragazzi secondo me bisogna andare oltre a questo episodio perché io parlo di metodo nel senso che nel momento in cui una signora una ristoratrice si suicida tagliandosi le bene e buttandosi nell'ambro perché ha subito il medesimo trattamento ragazzi ovvero parlare di fact checking su una recensione falsa di un ristorante con sei posti a sedere fact checking e debunking a casa mia sono roba seria usare questo metodo qui ha portato una persona a togliersi la vita quindi dobbiamo interrogarci su questo metodo perché ragazzi non è lui no io voglio ammettere che quel giorno che vi stavo raccontando prima quando mi sono svegliato ed è successo tutto quello che è successo mi sono chiesto io cosa sono qua a fare perché tutto questo odio io non sapevo né della raccolta né di lei né del fatto l'ho scoperto in seguito perché mi sono andato a informare ho cercato il mio nome su google e ho visto tutto quello che stava succedendo e io quel giorno mi sono fatto una promessa dopo tutto quello che avevo patito mi sono detto Matteo se domani ti risvegli col ginocchio tu stringi i denti e vai avanti perché puoi riprendere in mano tante cose diciamo se tu domani riesci a passare questa operazione ti manca una gamba e sei contro ancora tutto questo io lo dico apertamente è una cosa terribile ma anche quel giorno ho pensato veramente di prendere tutte le medicine che ho nel comodino e lo voglio dire apertamente infatti è collegabile al discorso che facevo prima io sono cambiato in lato positivo perché voglio cercare di portare del bene voglio che il bene vinca su tutto questo male e se non fosse stato per quel bene io non sarei qua adesso e soprattutto voglio ammettere che una persona magari fragile possa arrivare a fare un gesto terribile che reputo sbagliatissimo sia per la famiglia che per te stesso che sia quello di suicidarti perché non non è un gesto che io diciamo approvo perché non mi sembra giusto ma per questioni di egoismo perché dal momento in cui tu lo fai fai male anche alla tua famiglia e a tutte le persone che ti vogliono bene quindi vabbè è un altro discorso però voglio ammettere che in certe situazioni soprattutto mentre uno sta soffrendo e mentre uno sta vivendo un periodo ma voglio dire come il mio perché io conosco solo il mio esempio non voglio collegarmi a nient'altro io ti parlo di me e dico che io se fossi stato un filo più debole probabilmente l'avrei fatto Matteo ti dico questo la comunicazione ha vari registri quindi è semplicemente una questione di tatto io sono sicuro che se tutto ciò fosse stato posto in modo diverso tu ovviamente magari avresti storto il naso ti saresti preoccupato ma non ci sarebbero state repercussioni così grave io avrei voluto dar risposte volentiche esatto cioè nel senso questa modalità sprezzante va bene in determinati contesti quando qualcuno ti nega delle risposte quando vedi che c'è qualcosa veramente di marcio quando ci sono delle istituzioni pubbliche che fanno qualcosa dei politici dei rappresentanti va bene andare allora anche con il dente avvenenato e portare un attacco forte frontale anche nella comunicazione quello che dico io è anche l'esempio che riportava Federico io adesso non conosco bene la storia ma è sempre difficile ovviamente configurare le responsabilità dirette come abbiamo detto prima perché esattamente come con Davigo io non ho parlato di responsabilità dirette no no appunto è sempre difficile per quello ti dico è sempre difficile però abbiamo dichiarazioni della famiglia che dice era scossa da questo metodo appunto dico a prescindere poi gli ha imboccato un giornalista di Rai 3 ok di Rai 3 sotto il ristorante a dirle signora ma perché ha fatto questa cosa qui cioè il fidanzato della Lucarelli che a quel punto questo manco giornalista un tizio un cuoco che non ha mai avuto un ristorante in vita sua credo chiama una signora per fare fact checking ragazzi questo qui è alla stregua delle ronde di quartiere raga a casa mia in quel caso potrebbe essere magari utilizzo abusivo insomma di un titolo esercizio abusivo della professione ma questo la Lucarelli già lo fa e lo sa ma sti cazzi è il minore dei mali parlavo del compagno qualora fosse così però quello che dico io è che ovviamente uno non può avere la certezza e non va bene neanche l'altra retorica ovvero non si può criticare altrimenti poi quello ci rimane male e torniamo a Davigo che aveva detto noi non è che possiamo non fare le inchieste finisco un attimo per paura delle conseguenze però si possono prendere delle contromisure che problema c'è si può fare tutto si può fare tutto sai che c'è un ragazzo in una condizione sai che c'è una persona che non ha un pubblico non sposta pubblico e magari è anche meno abituata vai con i guanti fai le stesse domande cosa cambia la risonanza su questo ci può stare o non ci può stare perché come la vedo io ci sta anche lasciare l'oggetto per un'inchiesta seria dal momento in cui uso il mio nome il mio cognome le domande devi fare a me è vero c'ha ragione scusa se tu lo citi no no è quello che penso davvero dal momento che è benestante che è uno stronzo che gli amici dicono che non è pacifico ma quello è tutto superfluo è superfluo ma lei lo scrive fa parte quello è il superfluo che va scartato a prescindere ma quello non è il superfluo quello è il cuore perché è quello che aizza la gente appunto è superfluo in un lavoro serio la roba più importante della scrittura sua non è il fatto che forse la raccolta fondi non serviva è descrivere lui come uno stronzo benestante che ha fatto una raccolta fondi di uno che maltratta gli animali e che va in giro a fare robe contro gli animali ed è quella la parte della condotta giornalistica da criticare ma è terribile è terribile io dirò una cosa noi Matteo ci ha fornito tutte le prove che dimostrano ciò che ha detto io non ho problemi so che Selvaggia Lucarelli ha scritto più volte che ha rifiutato interviste dove parla dell'argomento io credo che ad oggi di fronte alle dichiarazioni di Matteo Selvaggia Lucarelli debba dare delle risposte perché a quanto pare a mio parere detta in francese ha pestato una merda grossa come una casa lei dice che non vuole dare risposte in merito perché il ragazzo non è lucido perché il ragazzo viene sfruttato dalla gogna a me par di capire che il ragazzo sia stato sfruttato ma in questo momento per gli elementi che ho mi viene da dire che è stato sfruttato dalla Lucarelli stessa quindi siccome noi siamo aperti e trasparenti invitiamo Selvaggia Lucarelli senza Matteo se Matteo vuole partecipare bene se no la possiamo fare noi io parlerei molto volentieri davanti a lei tu vorresti parlare con lei? io le ho detto fin da subito che l'avrei voluta vedere Selvaggia ma proprio per non dire per non avere interferenza al telefono a me farebbe molto piacere e soprattutto vedere con che occhi mi parla Selvaggia noi siamo qua Matteo è qua come vedi è sano lucido ha delle cose da dirti ed è testimone testimone di quello che tu chiami attività giornalistica se tu rivendichi e credi in quello che fai questo è secondo me un'ottima piattaforma non ci saranno tagli sarà tutto uncut se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo noi siamo qua si aggiungo che c'è un ventaglio di possibilità cioè parlare direttamente con Matteo senza videocamera parlare con Matteo davanti alla videocamera parlare solo con noi a me piacerebbe anche parlare senza telecamera esatto lo dico lo dico per evitare tutte le possibili controargomentazioni quindi cerca ricerca di visibilità altrimenti ci prestiamo anche noi a fare delle semplici domande su questa metodologia in parte te l'ho già risposta oggi insomma quello che secondo me è assolutamente deleterio per la tua professione è rischioso quanto meno rischioso se non c'è una responsabilità diretta è rischioso ed è evitabile o forse non è evitabile per motivazioni di altro tipo di lavoro per motivazioni di lavoro però io lo trovo inconcepibile anche secondo me io mi permetto di fare un passettino ulteriore e io credo che una persona che ha fatto della trasparenza della del fact checking e della verità il suo baluardo secondo me dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un po' meno tutto il lavoro che ha fatto sono curioso anche di vedere come ci descriverà ah beh dirà tipo quello con le treccine no beh io spero drogato con le treccine io sono onesto ragazzi l'ho vissuta anche sulla mia pelle e non sto parlando del caso Balocco Ferragni ok devo essere onestissimo io non sono incazzato con Selvaggia Lucarelli per il caso Balocco Ferragni in parte ma su alcune cose non posso parlare perché non riguardano direttamente me quindi non posso sovradeterminare mia moglie in questo caso anche perché sei pure in conflitto di interesse sarei il peggior avvocato difensore però ci sono delle cose Selvaggia Lucarelli lo sanno tutti non ha parlato solo del caso Balocco è da anni che parla della mia famiglia di me io so una cosa che a me ha fatto male tanto quanto lui e quindi conosco il metodo Selvaggia Lucarelli ha una sodale con cui fa una collega scusate ha una collega che si chiama Serena Ndoe con cui fa dei podcast che un giorno ha scritto che io sono guarito da un cancro in dieci giorni perché sono ricco lo stesso cancro che ha ammazzato Steve Jobs per dire quando io mi indigno per questa cosa perché a me è fatto veramente male perché così come arriva la merda a lui anche io che sono un personaggio pubblico mi è arrivata la gente a dire guarda che tu sei ricco devi stare zitto io ci sono stato male mi sono permesso di dire ragazzi questa cosa non si fa Selvaggia Lucarelli ha difeso la sua collega al posto di dire poteva evitarselo al posto di stare in silenzio poteva stare in silenzio ha deciso di difenderla quindi io se ho un peso se sono di parte è più per questo motivo che per il caso Balocco ok voglio precisarlo ecco sì sì ma infatti chiudendo anche se vogliamo con una nota insomma dolce mi dispiace anche perché io penso che poi magari non conta nulla la mia valutazione abbia davvero le capacità per fare delle inchieste importanti delle inchieste serie come ho detto prima alcune le ho anche condivise insomma nell'essenza ma condendo il tutto in questo modo secondo me si creano ulteriori danni quindi una potenziale riparazione di un danno come potrebbe anche essere il caso Balocco insomma o tanti altri che hai trattato non inerenti per forza alle donazioni o alle raccolte fondi crei magari un ulteriore problema puoi sbagliarti e è più difficile chiedere scusa nel momento in cui adotti un registro comunicativo così duro perché le conseguenze sono difficilmente riavvolgibili proprio perché se tu dai in pasto un mostro sbatti il mostro in prima pagina un grande capolavoro ha voglia poi a smentirlo questo è quello che penso e soprattutto Selveggio Gianlucarelli ha scritto degli articoli secondo me molto sensati sul metodo Iene sì ha voglia su come il metodo Iene abbia portato anch'esso a un suicidio e lei l'ha detto ha detto quel tipo di giornalismo ha portato a un suicidio un giornalismo che ti imbocca sotto casa io credo che anche non imboccando sotto casa della gente usando le terminologie sbagliate e usando secondo me empiricamente perché non possiamo dire che è una persona analfabeta è una persona che sa usare il vocabolario e lo usa in una determinata maniera che verte al sensazionalismo che verte al clamore perché lei deve vivere di questo giustamente quindi deve condire insaporire il più possibile le sue inchieste le cose che scrive però se tu ti permetti di fare la morale e di dire le Iene sbagliano metodo poi non puoi utilizzare il metodo pedissequo su scala online certo la stessa cosa infatti io ho criticato allo stesso identico modo anche il metodo Iene su molti servizi alcuni sono stati ottimi con delle punte di errore forse quello sotto casa si riferiva al caso M Team Bucalalla che conosco anche da vicino no no il caso di una persona era una una delle tante no no però insomma in cui magari un'inchiesta fatta bene anche da parte dei Iene con quelle punte evitabili anche perché lì ci sono ecco questi approcci sensazionalistici infatti per me è la stessa cosa sono entrambe delle condotte che alle volte scavano vanno a fondo e creano anche dei casi interessanti tirano fuori degli scoop di una certa rilevanza purtroppo però a volte rischiano di creare dei danni incalcolabili questo è un po' il dramma probabilmente non cambierà nulla però insomma abbiamo detto la nostra chiaramente Matteo noi ti ringraziamo tantissimo per aver condiviso la tua esperienza e intanto uscendo fuori da questa questione penso che da te si possa davvero imparare come ripartire in maniera positiva dopo una vicenda che ha appunto del cinematografico dell'assurdo e quindi ho apprezzato davvero tanto il modo in cui ci hai raccontato certe cose e devo dire ti stimo su questo vi ringrazio grazie mille Matteo per essere stato con noi ci vediamo a una prossima puntata di Muschio Selvagio ragazzi tanto qua siamo in un'atmosfera serena si può ragionare lo squalo gli ha mangiato una gamba a me dispiace tantissimo infatti nessuno ha negato che gli abbiano mangiato la gamba gli squali e lei gli ha mangiato qualche altra cosa e ha fatto male dopo di che mi dirai da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla falsa giornalista ma non mi risulta che tu sia un giornalista e nemmeno un pubblicista e quindi infatti non faccio giornalista e allora che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all'albo dei giornalisti se mi fai le domande io magari ti rispondo sì che ti rispondo Grazie a tutti.